Raggiungere Atri in macchina è quasi come affrontare la Parigi Dakar anche se si è attrezzati con gomme termiche fuoristrada. Le strade di accesso al paese sono pressoché impraticabili, la carreggiata è ristretta e spesso, come accade per la strada che arriva all'ospedale passando da Pineto, ci si mettono anche le vetture in panne ad ostacolare il transito. Nella città ducale da tre giorni mancano energie elettriche ed acqua ed ora cominciano a scarseggiare anche i rifornimenti di gasolio. I pochi mezzi soffrono anche di una cronica mancanza di coordinamento su quello che c'è da fare ed è proprio tanto. Anche per questo oggi è arrivato l'esercito che con uomini e mezzi dai due versanti, quello di Silvio e quello di Pineto, sta cercando di liberare la città dalla coltre di neve alta non meno di un metro. Raggiungere il centro storico con i mezzi propri è praticamente impossibile, solo a piedi e con grande fatica si arriva in paese. La situazione perciò è molto critica, come testimoniano le immagini, con i cittadini che si stanno dando da fare per cercare di ovviare ai tanti problemi di queste ore. Le due vide comunicazioni principali sono presidiate dalla polizia stradale che impedisce il transito se non strettamente necessario per le urgenze dell'ospedale, mentre continua a nevicare, il che rende ancora più complessa la vita in una città praticamente isolata.